buongiorno si va che sennò se arriva tardi il mio amico ferino mi infama che ne pensi siamo arrivati dopo la musica ma anche dopo ma anche dopo quando gli orchestrali sono già andati via ovuli 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 ma è bello questo allora però abbiamo detto che non si prendono perché anche prima il poro pierino li pigliava ma ora anche lui anziano gli fanno male bello questo bello poi lì dove sta andando il poro pierino quello è infatti era quello che avevo visto solo perciò l'avevo visto dalla dalla si però un tempo facevi le cose per pigliare becchi mare anche te è bellino hai ragione un del fuoco no oh vai oh vai dopo di essa si può andare via bello lì come belli che belli fungo 3 è bellino questo è però più avanti e sta addormenti e sta così quando quando prima a meditare a meditare quando prima ti ho detto c'è il tappeto di foglie alte chissà chissà e che c'è sotto che c'è sotto il tappeto no 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 guarda che lavoro guarda che bellezza eh guarda fermo guarda fermo guarda si l'ho visto l'ho visto guarda questo lo stai per stroncare allora vabbè ora si guarda per bene però lo sai che non c'è sotto le foglie magari di un attimo guarda questo oppure sono difficile da qui tu lo vedi ma ora perché lo smosso vabbè questo è bellino no lascia lì bastone dice che non è difficile signor fungo e noi si so sfilare per venire fuori dalle foglie guarda c'è guarda che altezza di foglie c'è io te lo vorrei dire Pierino e siamo al 5 vedi però queste a confronto ai primi due gambo un pochino morbido mi sembra uno uno il gambo un pochino morbido nonostante sono nuovi vedi tutte queste foglie ritte va a sapere che si schiaccia si prima di camminarci provare dov'è alto boschi incredibili eh boschi incredibili bello 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 non si vede ma penso bello bello eh guarda no qui una seggiola allora penso eh non non so uno credo uno credo due e credo tre e dai e credo non so un sono però vedi come guarda guarda sotto le foglie un rosso gigante due rosella e la fungata eh 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 ce l'avevo goduto eh eh ho fatto il conto senza l'oste eh ho fatto il conto senza l'oste vedi due bello 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 qua uno eccolo qui rosso eh due e tre e se tanto mi già tanto vi c'è il quarto spero almeno uno buono ci sia no no sempre il rosso non è come ne ho detto però le perle mi ha fatto alluzzare però purtroppo bisogna far così andare dai di fuori di canaletto dove c'è le foglie mentre ci stai in mezzo a schiacciarli rimane via facile eh lo so però quando vedi gonfio provà la resistenza ah una sfilata qui in modo possono restare buoni ci stava sì 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 ovuli ma proprio una strisciata guarda uno due tre tre, quattro, cinque, sei sette, otto e nove sì, c'è tutta una sfilata, sono nove almeno questi ho visto no, non so se faceva una sfilata dopo, sì ora questi usi così un lipo mi la prendi però quelli bellini, quelli bellini sì, quelli che si sono trovati di paranzia guarda, ce ne aveva trovato una pentina, qualcuno dirà guarda che fa però ne prendo forse ti hanno visto te, no Cici mi piace quando stava appoggiato il bastone tipo alla finestra vada il porcino, vada ah ma ah 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 i ah ah Grazie a tutti. 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 E' uno più aperto. E' fine. E ora si mangia. Schiacciata, divino e alla prossima. Bye. Ciao.